A partire da sabato cambiano le regole per accedere alla somministrazione dei vaccini. Negli hub della provincia sarà in open day sempre per la prima dose. La seconda saranno prenotate in automatico dopo la prima dose al momento della registrazione per avvenuta vaccinazione nello stesso hub. Per le terze dosi invece si accederà solamente su prenotazione. Ci si potrà prenotare sul portale regionale www.tescovidcostruiresalute.it Dal 10 di gennaio la campagna vaccinale per la terza dose è estesa anche ai soggetti fragili nella fascia di età fra 12 e 15 anni. La scelta delle prenotazioni per evitare assembramenti che diventino pericolosi in questo momento di maggiore recrudescenza del virus.